Riguarda proprio il pelo, Giorgio, vero? Sì, il pelo del Dandy Dimmont è un pelo molto particolare, perché abbiamo nel corpo quasi la coesistenza di due tipi di pelo. Allora, abbiamo un pelo abbastanza duro sul corpo e un pelo molto più morbido, e qui si può anche comodamente vedere, sulla testa. Naturalmente questi cani, qui lo vediamo da piccoli, hanno poi bisogno da adulti di uno stripping sul corpo e di tutto ha una manualità, Fiorenza, che va sotto il nome di plucking, che consiste nell'arricciare e strappare con le mani praticamente tutti questi ciuffi. La capigliatura. La capigliatura, esatto. Per cui praticamente è un cane che richiede, all'atto pratico, anche una manutenzione molto ridotta. Questo sul tavolo è un cane che comunque va già in esposizione a soli 15 mesi, per cui sta incominciando, mentre tu hai un soggetto con un pelo non ancora toccato, quindi naturale.